La 308 Racing Cup ha esordito in pista con un programma di tre gare. Dopo i primi chilometri macinati sullo storico tracciato di Spa-Franco-Champ nel campionato internazionale TCR, le vetture, con i colori del Sebastian Loeb Racing Team, hanno poi corso in due competizioni sulla pista tedesca del Nürburgring. Qui, le prime vittorie. Nel primo weekend, la 308 Racing Cup ha vinto una manche del campionato tedesco di WLN. Nel secondo, iscritta ad una prova del campionato europeo turismo, ha guadagnato in gara 1 il primo podio, con il terzo posto di Teddy Claret, seguito dal compagno De Vipogè al quarto.